Nuova iniziativa del Comune di Castellamonte per andare incontro i cittadini, la raccolta di oli esausti. Sì esattamente, intanto perché avevamo avuto una grossa richiesta da parte dei nostri concittadini. Abbiamo tardato un attimo perché le prime proposte erano un po' impegnative in quanto erano contenitori in cui si andava a riversare l'olio, perciò con il rischio di avere l'aria molto più inquinate e via dicendo. Alla fine si è riusciti a trovare una ditta che si chiama La Granda SRL che ci ha fornito di 10 cassonetti per il momento, da metterne uno per ogni frazione e due nel concentrico, in cui si andrà a mettere all'interno di questi cassonetti le bottiglie di plastica contenenti l'olio esausti. Iniziativa importante sia sotto l'aspetto ambientale, anzi soprattutto sotto l'aspetto ambientale. Molte famiglie gli oli li buttano direttamente nel lavandino o nel water, andando a danneggiare le tubazioni, ma purtroppo ad inquinare tutta una rete alla rete fognaria, andando ad inquinare i terreni e arrivando fino ai mari o alle acque. Il problema è un problema molto importante, è sentito da questa amministrazione già da tempo. Siamo contenti di essere riusciti a trovare questa soluzione. Noi confidiamo nei nostri concittadini perché questi cassonetti vengono utilizzati solo ed esclusivamente per il recupero degli oli di frigitura, nessun altro tipo di olio e soprattutto all'interno non devono essere messi altri materiali. L'iniziativa è totalmente gratuita per le utenze domestiche, mentre per quanto riguarda le utenze non domestiche c'è la possibilità di fare una convenzione con la società a titolo ovviamente gratuito e verrà anche l'oro fornito di un contenitore che verrà poi recuperato una volta riempito. Questa è una delle prime iniziative nell'ambito ambientale e poi nel corso dell'anno avremo modo di presentarne altre, però adesso partiamo con questa e siamo molto fiduciosi. Da quando sarà attivo il servizio? I cassonetti verranno posizionati da lunedì, perciò noi speriamo veramente tra lunedì e martedì di aver posizionato nelle frazioni nei punti più centrali. In Castellamonte sarà la zona mercatale e il piazzale Sandro Pertini a San Rocco. Sono i due punti che abbiamo momentaneamente predisposto e poi vedremo le esigenze e le richieste dalla cittadinanza per aumentare o diminuire i cassonetti.